Lui, noi, poi, lei, te, non ti crede, dipende quanto a voglia c'è, 105, lei, lui, l'altro, lei, lui, l'altro, 105 show! Lunedì 22 gennaio 2024, siamo pronti per partire con una nuova puntata di lei, lui, l'altro, buonasera dalla sottoscritta Lodovica Comello, ma c'è anche... Dario Micolani? Può essere anche da parte mia, no, Edoardo Menno? No, stavo dicendo è Dario Micolaus, in arte, in arte Dario Micolani, questo modo di dire è fastidioso quanto il notaio, per me sì Ma poi lui deve interrompere il primo intervento, il primo disannuncio, il saluto, perché lui deve puntualizzare che il tuo nome in arte è Micolani, ma va bene È giusto, è giusto Gli vogliamo bene lo stesso, Edo Mecca E allora vi saluto con un grande abbraccio, saluto anche Davidino, io, ciao, Gia, ciao, buonasera E salutiamo anche Lavale, Valerio Ma chi ci guarda, non può parlare Tra l'altro il buon Edoardo Mecca Laus in arte mecca